Il tuo cane ha contratto la leismania e vorresti che il centro di telemedicina ti aiutasse a venirne fuori. Ma hai paura che il tuo veterinario si possa offendere? Mi chiamo Gianluca Barbato, sono un medico veterinario e mi occupo di lesmaniosi canina e malattie mediterranee. Sono il responsabile del centro di telemedicina per la cura della lesmaniosi canina. La mia storia comincia quando ero un bambino. Di un cane si chiamava Max, si ammalò di lesmaniosi e morì. Questo mi ha portato a studiare medicina veterinaria per trovare una soluzione a questa malattia e oggi ho dato vita al centro di telemedicina per la cura della lesmaniosi canina. Ti dico una cosa, noi non ci sostituiamo al tuo veterinario, anzi il tuo veterinario ci serve per tutta la parte fisica. Quando ci viene sottoposto un paziente che ha la leismania, noi attraverso l'aiuto del tuo veterinario gli mandiamo tutta un'impegnativa di esami da fare e una serie di visite da fare sul paziente per capire qual è lo stadio della malattia. Perché abbiamo imparato negli anni, dedicandoci solo a questa malattia, che la terapia non è tutta uguale. La lesmania prevede 5 stadi secondo la nostra classificazione e ogni stadio ha la sua di terapia. Quindi noi utilizzeremo e ci faremo aiutare dal tuo veterinario a capire qual è lo stadio della malattia e come possiamo venirne fuori. Quindi noi faremo un sodalizio tra noi e il tuo veterinario. Se vuoi rimanere aggiornato su tutte le novità in ambito di terapia e prevenzione della lesmaniosi canina ti invito a iscriverti al canale YouTube. Invece se vuoi subito aiuto per il tuo cane ti invito a cliccare il link in descrizione dove ti spiegheremo come possiamo aiutarti.